Le comprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre, ma non rischiare di aver ragione, che la ragione non sempre serve. Domani invece devo ripartire, mi aspetta un altro viaggio, sembrerà come senza fine, guarderò il paesaggio. Sono lontano e mi torno in mente, ti immagino parlare con la gente. Il mio pensiero vola verso te, per raggiungere le immagini scolpite ormai nella coscienza, come indelebili emozioni che non posso più scordare. Il pensiero andrà a cercare, tutte le volte che ti sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, per dirti ancora che sei solo tu una cosa che per me è importante. Che per me è importante. Mi piace raccontarti sempre quello che mi succede, che parole diventano nelle tue mani, forme nuove e colorate. Con le profonde mai ascoltate, una musica sempre più dolce, il suono di una sirena perduta e lontana. Sembrerà di viaggiare io e te, con la stessa valigia in due, dividendo tutto sempre, normalmente. Il mio pensiero vola verso te, per raggiungere le immagini scolpite ormai nella coscienza, come indelebili emozioni che non posso più scordare. Il pensiero andrà a cercare, tutte le volte che ti sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, per dirti ancora che sei solo tu una cosa che per me è importante. Che per me è importante. E il mio pensiero ti verrà a cercare, delle volte che ti sentirò distante, delle volte che ti vorrei parlare, per dirti ancora che sei solo tu una cosa che per me è importante. Che per me è importante. Che per me è importante. Grazie a tutti